Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Saper vivere. Spero che dopo la spedirei tra tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia perché credo che bisogna riflettere, bisognerebbe saper vivere la vita nella maniera giusta e concreta. Quindi bisogna essere saggi e avere una dolcezza austera, avere quella calma che ci porti a ragionare. Quindi questa calma ci dovrebbe portare ad essere saggi, ad essere felici per dimostrare al mondo che noi siamo persone che vivremo momenti unici. Siamo persone che hanno stile, uno stile semplice e pacato e che hanno l'amitezza nel cuore e sanno fare i passi giusti al momento giusto. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Saper vivere. Bisognerebbe vivere una vita, giusta e saggia, concreta, che sia di dolcezza austera e colma di gioia inaudita. Bisognerebbe vivere felici per dimostrare al mondo che vivremo momenti unici nell'umiltà con stile fecondo. Bisognerebbe ricercare l'ammitezza per ricevere calma e prudenza. La vita è fatta di saggezza e invita tutti alla temperanza. Grazie